L'economista liberale, il pensatore politico antifascista, il governatore della Banca d'Italia, il padre della patria, il primo presidente della Giovane Repubblica, ma anche il giornalista e l'imprenditore agricolo. I tanti ambiti in cui Luigi Einaudi lasciò la sua testimonianza e insegnamento sono stati ricordati nel convegno celebrato in Campidoglio dal Comitato Nazionale per i 150 anni dalla sua nascita alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come ha spiegato il Presidente del Comitato Giuseppe Vegas, Einaudi rappresentò un'umanità tutto tondo, un contemporaneo uomo rinascimentale, ricordando quindi come il 2024 sarà costellato da diversi eventi per celebrarne la figura. Davanti a una folta platea d'economisti, persone delle istituzioni, del mondo finanziario, l'evento è stato introdotto dal Presidente onorario Roberto Einaudi e dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Nel corso dei lavori l'intervento del Governatore di Banca d'Italia, Fabio Panetta, che ha sottolineato l'attualità e la rilevanza degli insegnamenti di Einaudi nell'economia moderna e nella politica monetaria europea.